Andiamo all'inaugurazione di un'agenzia viaggi nuova a Monza, la Gira Mondo. L'arriva anche il fede! Eccoci a Monza, città di nascita. Non ci si viene mai, però è sempre bella. Ciao ragazzi, il video del maestro. Facciamo questo grande video al maestro. Gira Mondo, sono contento per Luca. Eccoci. Buonasera, ciao! Alla salute! Intervistiamo il titolare. Buonasera. Allora, questa inaugurazione è contento? Sì, abbastanza. Adesso facciamo un po' un giro e vediamo questa nuova agenzia in centro Monza, attenzione! Buonasera! Buonasera! Abbiamo creato le città più importanti del mondo. Milano che non è assoluto. Ma è chiaro! In Milano. Certo! Grande! Grandissimo! Cheers! Buonasera! Orgogliosa del... per... Azzurra... Pagliosa del.. Pagliosa del... Pagliosa del... Alonso di Spporto. Pagliosa del.. Grazie a tutti.